Bella a tutti da Borkmods, eccoci qua in questa nuova gara Questa gara è stata creata da soldato dalla morte Vi lascio il suo canale in descrizione Ed è Borkmods Skill Numero 14, raga Aspettate che non mi ricordo Adesso controlliamo 18 Vabbè, andiamo, andiamo Cos'è? Andiamo belli veloci, più veloci che possiamo, raga E con collisioni, sì, sì, sì Mamma mia vera a tutti quanti, eh Ah, raga, mi raccomando, andate a vedere Il nuovo video che ho messo su TikTok Che praticamente ho pubblicato la gara L'amica rampa TikTok, eh E vi ringrazio anche che mi avete consigliato qualche parte da mettere Se succede qualcosa di epico nel video, raga, consigliatemi voi, eh Perché io non ce capisco niente cosa mette su TikTok Ok, basta che mi scrivete il minuto, raga Non ci siano Noi proseguiamo tranquillamente Che qua ci abbiamo un suino tiktoker Allora Veloce, veloce Veloce, suino Vediamo un po' che parto che ha creato Soldato da Marte Allora Qua si può tagliare? Sì, andiamo Così Siamo vivi E belli i primeri Mio Dio Ok Veloce Quando inizia il vark, raga I sassolini, raga Appena l'ho visti ho detto ora metrò L'ho fatti una sottolata Ok Andiamo, andiamo, andiamo Mini Glide Così andiamo più veloci, raga Ok, frena, frena, frena Ok, questa parte con Mata ci frena sempre Proseguiamo tranquillamente Allora Lo sappiamo qui Ah, dritti Oh, dritti Ah, no, no, non c'era bisogno di far questo Fa niente, fa niente Pensavo che era un mini Glide Invece c'era la curva sopra Allora C'era scritto nella descrizione Gara difficile Vediamo, eh Veloce Veloce Va bene così? No, raga Allora, respawniamo Respawniamo Eh, fare ricarico La Issi, raga A volte trolla Ok, sono arrivati tutti quanti Donnellino Primero Sì, sì Devo giocare anche il suo Formula Oh, lo ci siamo Rigiriamoci Perfetto, raga Andiamo, andiamo Dove? Oh mio Dio Che parco rito Ah, c'era scritto pure un pochino Di riverassi A me c'è, raga Di qua Sì Ok, ok, raga Credo di aver capito, eh Madre mia No Sì No, raga Carina questa parte Respawniamo, respawniamo Che peccato Allora, qualcuno ce l'ha fatta? No, adesso nessuno Ah, riroi Come stai? Andiamo, andiamo Ok, levelassi antiriroi Devo giocare Che ce n'è uno Che non ho giocato Sembra Credo di sì Salve Oh, luto Ok Devo giocare pure Levelassian di Gab Ricord, però Mi devo preparare Perché Di sicuro sarà impossibile C'è scritto Addirittura Challenge 45 minuti Quindi Appena ho tempo Regiave lo registro, eh Meno male che scrivono challenge Così almeno Possiamo capire Se è difficile o no Regiave Perché devo parlare Allora Dai, veloce Bello, rapito Ok Andiamo, andiamo Perché ho sbagliato Perché stiamo andando bene L'unica cosa Quella curvetta è lì Perché qua è più facile, no? Oddio Se doppiava qui Era più facile, sapete? Ok Dovrebbe essere perfetto Ora via la perfezione Non perfezione No, Daniele Daniele Vedi, vedi Vado io? Ok Rush Sì? Ok Era un petto di qua Ci siamo? Ci siamo Madre mia Di già 4 minuti Di gareta Regà Mio Dio Guardate che bella Quella parte Ok Andiamo, andiamo Aiuto, aiuto Che scivola qua Che è leggeramente pendente Oddio, no Bello ripido Altro che Ok Credo che pure Daniele Ce l'ha fatta Sì, sì Ce l'ha fatta Regà Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Veloci nel tubo Regà Ok Questa è la massima velocità Ma perché devo fare Ah, non ci voglio Che rete Ok, regà Eccoci qua Mannaggia A me che mi sono trollato Ah, non ci voglio Che rete Andiamo, andiamo Aiuto Eh, dobbiamo fare attenzione Perché questa Issi Purtroppo Non ci ha Contrappeso Se caschiamo Andiamo regolari Che c'è prega Danielino È riuscito a passare Ma è già lui Saliamo su Veloci, veloci Ok Facciamo attenzione Regà Mio Dio Oh, ci siamo Ci siamo State tranquilli Ok Andiamo, andiamo Madre mia Concentrati Scusate Se parlo a bassa voce Però Se casco Mi devo rifare tutto Ole, ole Ci siamo Ci siamo E adesso Bello, bello Sui Complimenti Regà È colpa del caldo Non è colpa mia Daniele ce l'ha fatta Porca Non dico niente Non dico niente Non dico niente Manco sono riuscito a respawnare Allora Andiamo Dritto sui Ok Ok Adesso si che va bene Andiamo Preso il check Qua bisogna saltare Oh, ci sono Ci sono Ci sono Non so nemmeno Non so nemmeno io Come di qua Sì, sì Andiamo, andiamo Belli veloci Belli rapidi E ora? Ah, ho lasciato leggermente il gas Va bene, secondo voi? Sì, che va bene Alla perfezione Sì, sì Siamo vivi Danielino Vieni qua Dove scappa? Si è cascato sui? Sì, sì È cascato È cascato Mi dispiace Non sai quanto Cambio wallride Qua bisogna farla alla perfezione Sali, sali, sali Mamma mia La prima era, raga Frena, frena, frena Ok, abbiamo preso il check Dove siamo? No, di qua, di qua Ok Ce l'ha fatta Daniele? Non lo so, raga E adesso Ah, di qua, di qua Ok Carina questa parte, raga Sali, sali, sali Piano, raga Non dobbiamo dare troppo gas Se non scivola Giù, credo di sì Sì, sì, sì Ok E un'altra parte così Perfetto Carino, carino Questo ponticello Ridromarcia, ridromarcia Può salire? Aspettate, eh Possiamo fare così Andiamo a marcia indietro Sì, 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 sì Ci proviamo, eh Mamma mia Ci siamo, ci siamo Stupendo E adesso Aspettate Ok Dobbiamo salire su Non è così facile salire su Quanti c'è che mancano Che sta arrivando pure Daniele? Quasi finito Sopra giù La carerita Più veloci qui Sì Ci siamo Ah, ok, ok Dobbiamo andare qui, raga Sali Oh, là ci siamo E adesso c'è un bel check Credo di sì Eccolo qui Container Carina questa parte Però non credo che riuscire ad andare là Sì, invece Ok Un po' di rincorsina Ci serve Andiamo Non sapevo che scivolava In quella parte, eh Credevo che era la parte gommata Invece scivola Perché sotto sopra Non sono gomme Credo di sì Sì, sì Ok E dai, ragazzo Io credi E rispondiamo di nuovo Eh, oggi siamo un po' controllati, eh Capita Capita, capita Allora, però Diciamo che questa parte È leggermente strana Perché Oltre a stare dritti Dobbiamo pure sperare che Rimani dritta Nell'equilibrio Ok Credo che sono dritto Sì, 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 sì Perfetto così Adesso, regà Cambio Sì, un cambio Un cambio Un cambio Vediamo un po' se è difficile È leggermente complicato Con la Issy Bisogna fare un cambio Perfetto, regà Veramente Perfetto Sì, 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 sì Devo salire su? Sì Ah, c'è che del teletrasporto Perfetto Cosa? Ah, ok, ok E rispondiamo Dobbiamo fare il giro nel tubo E poi prendere il wall Right Da questa parte, sì Ok Sì Ci siamo, regà Allora, fino adesso Non era così complicata Dove se si dice Dove, 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 dove Di nuovo Wallride Aspettate Sì Perfetto Ok Se ci metteva un cambio Diventava già più hard Questa parte Adesso Bisogna respawnare Da, rapido, rapido, rapido Cosa abbiamo qui, regà Di cerchietti Aspettate Ok Aiuto Ci siamo, ci siamo, ci siamo Ma ci dobbiamo rigirare qua Ok E dobbiamo fare così, giusto? Ho visto una base Ok, meno male È facile Perché Di solito Mettevano queste parti Ma la base stava in mezzo E bisognava frenare Tipo in tempo, regà E non era così facile Sta registrato Sì, sì Tutto, ok Saliamo su Da quale parte? Ok Per così Può più di rincorsa, sì, regà Per sicurezza, sì Andiamo Eh, ci siamo Dove mi sono Dove mi sono Sto a rigirare, regà Ok, ok Diciamo una parte Leggermente scomoda Per rigirarsi E adesso bisogna salire su Sì, sì Facciamo attenzione Sì Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Passate al mio secondo canale Big Bork E al mio terzo canale One Bork E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella Ciao